buongiorno ragazzi e bentornati in questo video vedremo di calcolare il dominio di queste cinque funzioni affrontando e risolvendo diverse problematiche tipiche del calcolo del dominio di funzioni esponenziali logaritmiche o comunque più complesse partiamo dalla prima funzione è una frazione a nominatore la radice di x più 5 e a dominatore x2 meno x i passaggi da fare per il calcolo del dominio sono due scrivere l'elenco delle condizioni e fare poi il sistema scrivere l'elenco delle condizioni partendo da subito dopo l'uguale la prima cosa che trovo dopo l'uguale in questa funzione è un denominatore e quindi dovrò porre il denominatore diverso da zero guardando il numeratore incontro una radice e quindi radicando deve essere posto maggiore o uguale a zero dopo aver scritto le condizioni devo fare in modo di trovare i valori di x che soddisfino entrambe queste condizioni e quindi il secondo passaggio è fare il sistema tra le due condizioni che abbiamo scritto quella della radice e quella del denominatore la prima disequazione mi dà x maggiore uguale a meno 5 la seconda raccogliendo x trovo un diverso da zero e un x diversa da 1 adesso facciamo uno schema dove mettiamo le soluzioni delle singole equazioni disequazioni quindi abbiamo sulla prima riga le soluzioni x maggiore o uguale a meno 5 quindi metto un pallino pieno nella seconda vanno bene tutti i numeri tranne 0 e 1 quindi metto una croce su 0 e 1 devo prendere come dominio gli intervalli dove ci sono entrambi le righe arancioni quindi da meno 5 preso a 0 poi un intervallino che va da 0 a 1 sempre estremi esclusi e poi il terzo intervallino da 1 a più infinito questo è il dominio del nostro primo esercizio andiamo adesso a calcolare il dominio della nostra seconda funzione che apparentemente è molto brutta ma non fermiamoci all'apparenza è il modulo di una frazione con a numeratore un seno di x per 2 e a denominatore un prodotto tra un esponenziale e un polinomio prima cosa da osservare il modulo crea dei problemi per il dominio la presenza del modulo di per sé non genera delle condizioni sul dominio perché il modulo prende quello che c'è all'interno e se è positivo lo lascio uguale se è negativo gli cambia segno ma non devo escludere dei valori di x per cui il modulo non è definito quindi il modulo non mi crea problemi nel calcolo del dominio abbiamo poi una frazione a numeratore abbiamo il seno ma il dominio del seno è tutto r è definito per qualunque valore quindi mi rimane il denominatore a denominatore e io devo porre tutto il denominatore diverso da zero a un prodotto quindi devo porre diverso da zero i singoli fattori quindi l'esponenziale deve essere diverso da zero e x 2 meno 1 diverso da zero noto subito però che l'esponenziale è sempre diversa da zero per ogni x mi rimane l'unica condizione x diverso da più e meno 1 posso scrivere questo dominio in due modi differenti posso scrivere ogni valore di x diverso da più e meno 1 oppure posso scrivere la notazione insiemistica che a me piace molto di più perché vedremo andando avanti nello studio di funzione che il numero delle parentesi tonde che compariranno nella scrittura insiemistica del dominio sarà il numero dei limiti che dovrò fare nella mia funzione il secondo modo quindi la notazione insiemistica che dice da tutti i numeri che ci sono io tolgo meno 1 e 1 vedete che sulla nostra linea rimangono tre intervalli il primo quello con la freccina arancione è tradotto da meno infinito a meno 1 il secondo intervallino quello in mezzo tra meno 1 e 1 si scrive meno 1 e 1 con parentesi tonde e la terza freccina dopo 1 viene tradotto nella parentesi 1 più infinito sempre tonda queste due scritture sono assolutamente equivalenti partiamo subito con una funzione logaritmica y uguale al logaritmo il suo argomento è su due piani è una frazione a numeratore x quadro meno 9 e a denominatore x meno 2 più l'esponenziale elevata alla radice di x alla quarta meno 16 ora mettiamo come prima cosa le condizioni quindi ricordiamo come ben detto nel video precedente di partire da dopo l'uguale e mettere tutte le condizioni che trovo io incontro un logaritmo come prima cosa quindi il suo argomento che in questo caso è una frazione deve essere posto maggiore di 0 in questo modo comprendo anche la condizione denominatore diverso da 0 poi andando avanti a esplorare la nostra funzione incontro una radice e quindi chiedo arradicando quello che c'è sotto x alla quarta meno 16 di essere maggiore uguale a 0 il secondo passaggio da fare è il sistema tra le condizioni che abbiamo trovato mettiamo quindi il simbolo di sistema nominiamo 1 e 2 le nostre due condizioni e andiamo a svolgerle separatamente la prima condizione è una disequazione fratta quindi io devo trovare valori di x che rendono questa frazione positiva inizio studiando separatamente il numeratore e il denominatore faccio direttamente lo schemino dei segni quindi il numeratore è positivo per i valori esterni tra meno 3 e 3 non metto l'uguale non metto nessun pallino su meno 3 e 3 il denominatore positivo dopo 2 prodotto dei segni e ottengo gli intervalli di positività di questa frazione tra meno 3 e 2 e dopo 3 questi sono gli intervalli che rendono positiva quella frazione che ricordiamo è l'argomento del nostro logaritmo sono gli intervalli dominio del nostro logaritmo se non ci fosse la seconda parte dell'esercizio questo sarebbe direttamente il dominio della funzione logaritmica noi però abbiamo anche una seconda una radice che deve essere posta assolutamente maggiore di zero mettiamo l'argomento della radice x alla quarta meno 16 maggiore o uguale a zero e otteniamo questa scomposizione x2 meno 4 che moltiplica x2 più 4 è un prodotto notevole maggiore o uguale a zero studio separatamente i due fattori la prima mi dà i valori esterni tra più e meno 2 la seconda x quadro più 4 maggiore o uguale a zero mi dà come soluzioni ogni x appartenente a r quindi il prodotto di quei due fattori positivo mi dà come soluzione la soluzione del primo fattore positivo adesso cosa importante dobbiamo fare il sistema tra le due condizioni trovate quindi dovrò preparare un nuovo schemino con tutti i protagonisti trovati nel punto 1 e nel punto 2 che in questo caso sono meno 3 2 e 3 per la prima soluzione e dobbiamo aggiungere la soluzione meno 2 che ho trovato svolgendo e radicando maggiore di zero e devo andare a ricopiare in questo schemino le soluzioni trovate svolgendo la condizione 1 e la condizione 2 che sono i due intervallini coi più che adesso sto copiando nel nostro schemino e gli intervallini che ho circondato in arancione spendiamo un attimino due parole per analizzare questo schemino rispetto a quello fatto durante la prima condizione in nero lo schema nero era uno schema di prodotto dei segni quindi nell'intervallo per esempio tra meno 3 e 2 avevo due intervalli dove il numeratore il denominatore erano negativi e sendo una frazione quindi l'intera frazione risultata positiva nello schema blu invece metto solo le soluzioni quindi metto solo gli intervalli verificano la prima condizione la seconda condizione non ci sono degli intervalli negativi e devo andare a prendere come soluzione finale del dominio gli intervalli che contengono le due righe soluzione delle due condizioni il dominio finale quindi è dato da due intervalli da meno 3 a meno 2 e da 3 a più infinito adesso analizziamo un secondo esercizio abbastanza tipico andiamo a trattare una funzione sempre logaritmica ma che presenta un doppio logaritmo andiamo a calcolare il dominio della funzione y uguale al logaritmo in base 3 del logaritmo in base un quarto di 5 x meno 3 prima cosa da fare ci sono due logaritmi ma non è un prodotto tra due logaritmi è il logaritmo di un logaritmo mettiamo queste due parentesi che spesso si omettono ma che stanno a significare che tra le parentesi arancioni c'è l'argomento del primo logaritmo quindi primo passaggio mettiamo le condizioni di esistenza appena dopo l'uguale incontro un logaritmo in base 3 quindi tutto il suo argomento che è il logaritmo in base un quarto di 5 x meno 3 quindi tutto questo tra le parentesi arancione è l'argomento del primo logaritmo quindi deve essere posto maggiore di 0 poi entro nelle parentesi arancioni e incontro un nuovo logaritmo in base un quarto il suo argomento che è la parentesi 5 x meno 3 deve essere posto maggiore di 0 adesso devo fare il sistema tra queste due condizioni perché voglio i valori di x che rendono contemporaneamente positivi gli argomenti dei due logaritmi svolgiamo a parte la prima condizione logaritmo in base un quarto di 5 x meno 3 maggiore di 0 questo tipo di disequazione è stata trattata nei video dedicati ai logaritmi andiamo però velocemente a vedere i due modi in cui può essere risolta questa disequazione posso applicare la definizione il risultato 0 è l'esponente da dare alla base per avere l'argomento qui se ci fosse un uguale quindi ho da una parte l'argomento e dall'altro un quarto alla zero visto che la base è minore di 1 devo girare il segno di disequazione e quindi ottengo 5 x meno 3 minore di 1 secondo modo per risolvere questa disequazione trasformo lo 0 dopo il maggiore in un logaritmo di base un quarto quindi posso scrivere la prima parte della mia disequazione la ricopio maggiore invece che 0 scrivo il logaritmo in base un quarto di 1 a questo punto confronto gli argomenti cambiando il segno di disequazione in mezzo perché ho una base minore di 1 ottengo in entrambi i casi come vedete la stessa soluzione quindi questa è la soluzione devo ancora però esplicitarla rispetto a x della prima condizione sul logaritmo in base 3 riscriviamo quindi il sistema argomento maggiore di 0 argomento minore di 1 quindi ottengo potevamo svolgerla senza il sistema ma procediamo in questo modo le soluzioni che devono essere contemporaneamente maggiore di 3 quinti e minore di 4 quinti questo è il dominio della nostra funzione col doppio logaritmo ragazzi facciamo una piccola digressione per vedere bene come si svolge il dominio di una funzione che presenta un doppio logaritmo abbiamo visto nell'esempio che qui ci sono ma non si vedono delle altre parentesi quindi il nostro logaritmo quello più esterno è logaritmo in base a a questo tutto questo come argomento quindi come condizione di esistenza del logaritmo in base a devo mettere tutto il suo argomento logaritmo in base b di f di x maggiore di 0 poi entro nella parentesi arancione il logaritmo in base a aveva quello come argomento e l'abbiamo messo ma lì dentro ha un logaritmo in base b quindi il suo argomento deve essere posto maggiore di 0 queste sono le due condizioni di esistenza dei due diversi logaritmi e devono essere soddisfatte contemporaneamente dividiamo un attimino quale osservazioni se la base maggiore di 1 che cosa succede e se la base compresa tra 0 e 1 che cosa succede primo caso se la base maggiore di 1 allora la prima disequazione rimane argomento maggiore di 1 e la seconda argomento maggiore di 0 quindi questo sistema può essere sostituito dalla singola disequazione argomento maggiore di 1 se abbiamo invece una base tra 0 e 1 la prima condizione rimane argomento minore di 1 e la seconda argomento maggiore di 0 come nell'esempio che abbiamo svolto quindi mi rimane il mio argomento compreso tra 0 e 1 possiamo quindi sostituire il sistema di due condizioni in quell'unica condizione guardando la base del logaritmo più interno come vedete di a non mi è importato perché lì dovevo solo porre la condizione di esistenza del logaritmo esterno andiamo adesso a vedere un terzo esercizio questa volta trattiamo una funzione diversa y uguale a una frazione con sopra una radice di indice pari x 2 meno 1 e sotto un logaritmo in base 2 di x 2 meno 4 passaggi scriviamo come al solito le singole condizioni prima cosa sopra una radice quindi radicando maggiore uguale a 0 questa è la condizione della radice poi ho un denominatore perché è una quindi tutto il denominatore deve essere diverso da 0 questa è la condizione del denominatore ma il denominatore è un logaritmo quindi il suo argomento x 2 meno 4 deve essere maggiore di 0 questa terza condizione è la condizione di esistenza del logaritmo secondo passaggio il sistema tra tutte le condizioni che abbiamo trovato chiamiamole 1 2 3 le risolviamo singolarmente e poi andiamo a mettere tutte e tre in un sistema prima condizione rimane x minore uguale a meno 1 x maggiore di 1 seconda condizione voglio un logaritmo diverso da 0 quindi il suo argomento diverso da 1 e mi dà come soluzione portando di là il 4 x diverso da più o meno radice di 5 terza condizione valori esterni tra meno 2 e 2 e ovviamente non c'è l'uguale perché il logaritmo vuole l'argomento maggiore di 0 prepariamo uno schema dove mettiamo tutti i protagonisti meno radice di 5 meno 2 meno 1 1 2 radice di 5 riportiamo le soluzioni quindi gli intervalli che soddisfano le tre condizioni quindi la prima gli intervalli minori di meno 1 e maggiore di 1 la seconda mi vanno bene tutti i numeri tranne mettiamo le x meno radice di 5 radice di 5 terza condizione voglio i valori minori di meno 2 maggiore di 2 devo scegliere come soluzioni finali il dominio questi quattro intervalli dico 4 perché con la notazione insiemistica si devono dividere in meno radice di 5 radice di 5 quindi avrò da meno infinito meno radice di 5 unito a il secondo intervallo da meno radice di 5 a meno 2 terzo intervallo da 2 a 5 radice di 5 e ultimo intervallo da radice di 5 a più infinito questi sono gli intervalli che contemporaneamente soddisfano le tre condizioni perfetto ragazzi spero che sia tutto chiaro altrimenti iscrivetemi nei commenti continuate a seguirmi iscrivetevi al canale e buona matematica